Nella grande giostra delle comunali è il giorno del gong sui sondaggi tra i candidati prima delle due settimane di silenzio, lasciando all'elettorato programmi e proposte da mettere a confronto, l'ultimo in ordine di tempo è firmato Eometra e cambia la posizione sui gradini del podio di Bari-Città, assegnando quello più alto al centro-sinistra di Michele Laforgia, avanti con una forbice tra il 32 e il 36%, mentre il centro-destra di Fabio Romito seguirebbe tra il 31 e il 35. E il Vito Leccese a trazione Dem, Verdi e Civici oscillerebbe tra il 30 e il 34% di preferenze, oscillazioni appunto, non una rivoluzione pur cambiando l'ordine degli addendi al ballottaggio che secondo la stessa rilevazione Laforgia vincerebbe tanto contro Leccese quanto contro Romito e lasciando ai Civici, Sabino Mangano e Nicola Sciocovelli soltanto le briciole. Centro-destra in partita dunque, esattamente come nei report precedenti del Corriere della Sera e di Porta a Porta, lo stesso sondaggio, peraltro, vedrebbe Carlo Salvemini, riconfermato sindaco di Lecce, battendo al primo turno Adriana Polibortone e il centro-destra con largo margine. In compenso, un Leccese sul 5 non avrebbe ancora sciolto la riserva e si sa, il finale di partita è sempre determinante.